Sta facendo il Giro della Rete, il gol realizzato da Maxim Ivashuk, calciatore della formazione russa Zaira Krasinos Namensk. Un colpo di tacco da fermo, il cosiddetto colpo dello Scorpione. Nulla toglie la prodezza il fatto che sia stata realizzata in una gara amichevole. Lo Scorpione non è però una novità assoluta nel mondo del calcio. La paternità del colpo va attribuita all'estroso portiere colombiano René Ghita, che si inventò questa acrobazia per respingere un pallone sulla sua linea di porta. Un altro colombiano, Maurizio Molina, ha recentemente ripetuto il gesto tecnico per segnare una rete. Restando in Sud America, il boliviano Gaston Meaia ha fatto addirittura gol da fuori area. Anche in Italia abbiamo avuto la fortuna di assistere alle prodezze di uomini Scorpione. Non poteva mancare l'elenco Zlatan Ibrahimovic, che ai tempi dell'Inter punì con un colpo da campione il Bologna. Da applausi anche la rete con cui il nigeriano del Varese Bagua sbloccò il match contro il Siena nel dicembre 2010. Grazie.